Pensione di agosto, disponibilità per i cittadini della provincia a partire da domani. Posta italiana comunica che in tutti i 47 uffici postali della provincia di Siracusa le pensioni del mese di agosto saranno in pagamento a partire da giovedì 1. Sempre a partire da giovedì 1 le pensioni di agosto saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto banco posto, di una post pay evolution che abbiano scelto la credito. I possessori di carte di debito associate a conti e libretto di post pay evolution quindi potranno prelevare in contanti dai 44 ATM posto della provincia senza recarsi allo sportello. Inoltre i possessori di carte di debito associate a conti e libretti potranno sfruttare gratuitamente di una polizia assicurativa che consente un risarciamento fino a 700 euro all'anno sui furti di contanti subiti nelle due ore successive al prelevo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM postali. Per evitare assembramenti e tempi di attesa superiori alla media poste italiane consiglia a tutti i pensionati ove è possibile dedicarsi a ritirare la pensione in tarda mattinato o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi.